Questo centro nasce nel 2011 dalla volontà di Beretta di individuare uno spazio fuori dall'azienda in cui il personale dedicato potesse occuparsi a tempo pieno della concezione, dello sviluppo di idee e progetti di innovazione. Tra le tematiche trattate ci sono la sensorizzazione delle armi, l'Internet of Things, l'acustica, i servizi per la Smart City, la biomeccanica applicata al tiro al volo e la fluidodinamica computazionale.